La luna rossa Era inaugurato domani alle ore 19 il nuovo auditorium dell'istituto Pacinotti di Scafati. Per l'occasione a dare il via alle diverse iniziative della struttura andrà in scena un concerto del maestro Espedito De Marino che omaggerà il maestro Roberto Muro, la storica voce della canzone napoletana. Una città che cresce, una città che cresce in cultura, in scuola. Bisogna dare merito alla preside, al direttore amministrativo Villani, alla preside Adriana Miro. Che hanno veramente intercettato un fatto importante che è utile alla comunità scolastica ma sarà utile al paese intero. Quindi sabato 23 alle ore 19 inaugura questo auditorium straordinario. Quali pezzi che ascolteranno anche coloro che saranno presenti a questa inaugurazione? Ma ovviamente come lei sa non manco mai di fare un tributo al mio amico e maestro Murolo che tra l'altro ci troviamo proprio nel periodo in cui è nato e in cui è morto. Il 19 gennaio e quindi a 104 anni dalla nascita e il 13 marzo 2003 quindi a 13 anni dalla dipartita. E tira, 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 ciucciariella, sta carretella, tirala tu.